Siamo finiti in casa di qualcuno Ebbene pesate una volante Arrivare la polizia, via, via Dimmi Mi raccomando Mi raccomando L'ha detto Bella raga oggi siamo in questo nuovissimo video E siamo tornati nuovamente con la pitbike Di nuovo nello stesso posto immersi tra campi Campi e campi e campi e campi Che non finiscono più Oggi c'era anche l'Edoardino in pitbike No stavo facendo l'intro Oggi l'intento è di nuovo di imparare a impennare La frizione che slitta Ma perché l'ultima volta che l'aveva usata Era su da Davide E gli staccava male Ue ue Dai eh Si può imparare No Vorrebbe arrivare ste parere con il tc Uo o il tc Ma ora mi fai un video Ma hai visto che mi è andata indietro e ho usato il freno Uo o Fra fra ce l'ho eh ce l'ho lì Mi è andata indietro e ho usato il freno Prossimo posto ora devi trattare eh Allora Uuuu Goloso Devo provare in secondo No in secondo non viene su Mi è andata giù di su di colpo Porco Che caldo che fa Ma mi senta la frizione No no l'ho cambiato con E difatti mi è andata su di colpo Hai visto che ho usato il freno Se tu provi a usare la frizione Cioè provi a non usarla Eh Ti fa colpo proprio di volto Si Eh usala sempre Ok Ok stiamo imparando bene a usare il freno Uff Adesso io edo Andiamo a vedere Delle stradine di campagna Che ci sono Qua Di là Siamo finiti in casa di qualcuno Mi sa che siamo in casa di qualcuno Secondo me è troppo vicino a delle coltivazioni Tra un po' Edoardo sparisce Cosa? Ho preso un'ape Come un'ape Se ci sono giusto Ho preso un paio di stradine Dove vai di là? Non ne ho idea Allora Ci facciamo due penne Facciamo due penne Impegniamo Però impara Ehi Che pezzo di mica Allora Dato che sono già le 5 E noi ci mettiamo più o meno un'oretta A caricare le moto Portarle a casa Andare a posare il doblò Perché le moto sono state portate qua con il doblò Come la scorsa settimana Ovviamente senza targa Non possono circolare in strada E di fatti le portiamo in queste strade Molto campagnole Senza rotture di casa Dato che sono già le 5 Quindi facciamo ancora due impennate Poi verso le 5 e mezza Direi che è l'ora di iniziare a Caricarle Di nuovo E portarle Verso casa Abbiamo capito che Sfrizionare in seconda In velocità Non è molto saggia Molto Eh Non è molto saggia come Molto Ah Non è molto saggia come roba Quindi in prima Da fermo Sfrizioniamola Teniamo più alta possibile Usando il freno anche E via Cosa? Abbiamo passato una volante Noi teniamo aperto Minchia la provo un attimo Deve finirà arrivare la polizia Cazzo Era la polizia Oh Lui era lì con il c***o Non se ne ha neanche accorto Che bello Ora a filmare Eh ma se non impari così Eh minchia ma non ti stanchi mai No Cosa? Non lo so ma adesso fermati Cosa? Hai passato una Direi che è l'ora Di caricare Arriva la polizia Via via Che due coglioni Oh i do cro No si è messa lì Si è messa lì Va 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 Senza Fa posto di blocco Gira il furgone Vieni vieni ti nascondo io Vieni vieni Polizia 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 E' l'ora di andare via Polizia polizia Eduz dammi il tuo telefono Eduz dammi il tuo telefono Eccoli Sono venuti a prenderci Cazzo Adesso ci fermano con il doblo Ok Ok E' l'acquisto di oggi E' che c***o Mi sto incastrando Oh mi sono incastrando Bella raga Il video termina qui Adesso andiamo a scaricare le moto a casa Dopodiché Andiamo a posare il furgone Oggi pomeriggio abbiamo rischiato di schienarci una volta Ma per fortuna ho usato il freno E hanno fatto un posto di blocco davanti a noi Che impennavamo con le big bike Esperienze che poi verranno raccontate ai nostri nipoti Detto ciò spero che il video vi sia piaciuto Noi ci vediamo con un prossimo video Iscrivetevi Lasciate like Commentate Seguitemi su Instagram Link in descrizione Salutone Un bacione E bella raga Ciao